Sono una dottorata della professoressa Mignozzi, con lei ci occupiamo di materiali da attivazione alcalina, meglio conosciuti come geopolimeri, ed sono questi che noi vogliamo presentare quest'anno al SAIE. Infatti stiamo facendo questa ricerca basata su dei materiali totalmente privi di cemento Portland, con i quali possiamo realizzare vari tipi di prodotti, tra cui in alte, in tonaci, dipende dall'applicazione che vogliamo ottenere. L'interesse di questi materiali è che sono totalmente privi di cemento, come materia prima utilizziamo degli scarti industriali che possono essere di vario genere, da scarti dell'industria ceramica a scarti dell'industria termoelettrica, naturalmente che abbiano delle proprietà di base idonee per questo tipo di processo, insieme a degli attivatori di tipo alcalino possiamo ottenere delle resistenze meccaniche particolari, quindi ottenere dei prodotti del tutto simili al cemento, ma totalmente privi di cemento. Questo ci permette di avere dei materiali molto performanti, ma anche performanti da un punto di vista della sostenibilità ambientale. Se qualcuno di voi vuole approfondire questo argomento, il nostro Dipartimento il 4 di dicembre sta organizzando un workshop di una giornata intera sull'argomento per approfondire vari aspetti con ospiti internazionali, e ovviamente nell'ambito della ricerca universitaria del nostro gruppo di ricerca coordinato dalla professoressa dei gnozzi.